Questo libro è un libro molto particolare in quanto presenta quelli che sono gli errori tipici delle donne ma non sono errori deliberati, decisi ma sono copioni sentimentali e amorosi che ogni donna sviluppa nella sua esperienza di vita e che tendono a diventare dei rigidi modelli di relazione con i partner. Questo deriva da tutto uno studio di tanti anni nella mia esperienza personale sia di lavoro nella terapia ma soprattutto di confronto con allieve donne con pazienti donne e con amicizie donne e è curioso vedere come donne belle, intelligenti, vincenti, capaci possono essere così disastrose nelle loro relazioni amorose e allora il dubbio è stato come è possibile che la donna così in gamba riesca a complicarsi così tanto la vita osservando come la donna interagisce con l'altro sesso e soprattutto nella sua vita sentimentale è stato possibile rilevare 17 copioni amorosi e sentimentali ognuno di questo rappresenta una modalità entro la quale la donna se irrigidita viene a essere intrappolata nella sua relazione amorosa